Musica Presto una clinica veterinaria di alto livello sulla paulese all'altezza di via delle vigne a Cremona. Progettata dall'architetto Massimo Terzi sarà su due piani e verrà gestita dal dottor Aldo Vezzoni. Prevista anche una struttura apposita per le emergenze oltre a sale operatorie, salette per le degenze, sala radiologia e laboratori. La prossima settimana il progetto verrà esaminato in comune dalla Commissione Paesaggio. Il dottor Vezzoni Cremonese è il primo chirurgo veterinario ad essere stato premiato 5 anni fa negli Stati Uniti per la sua attività. Oggi alle 18 prosegue Sguardo Concorde col secondo dei cinque appuntamenti in programma in scaletta a brani di Bach e di Prokofiev magistralmente eseguiti dalla violinista Anastasia Petriscia che è già nota al pubblico cremonese. Dal 28 luglio avrà invece inizio il secondo ciclo della manifestazione col violinista Daniele Richiedei e la prima parte del suo viaggio nella canzone italiana. Dal 28 luglio avrà invece inizio il secondo ciclo di Stati Uniti per la sua attività.